Ciao ragazzi bentornati benvenuti siamo su call of duty modern warfare beta vengo da battlefield non posso che sottolinearlo ma questo modern warfare prospetta un buon auspicio per tornare di nuovo su call of duty dopo anni e anni andiamo a provare la beta e impugniamoci la grande orizzontale verticale, orizzontale verticale, facciamo un'acqua c'è oh prima kill su code, comunque devo alza ancora ci posso credere sono tornato su code oh a raffica era, ho girato, te ne ho premuto io, è qua sopra bello madonna che grafica però, finalmente un code che mi intriga forte eh non pensavo si potesse andare anche sopra bello c'è un altro assist oh c'è l'MPP7 qua, pialo 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 il buon bandit il buon bandit ma stiamo messi male bravo controlliamo la battaglia bello ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, dai, vetti fuori il nato sai se si può ping, eh e no dai, stava a sparare all'altro oh, dove scappi? sei andato, sei andato oh che bel flank ok ma, preso per culo è questo meglio UAB disponibile ma non so nemmeno non si attiva freccia a destra, ok richiado ricognizioni aeree voglio sbloccare il fucile da giacchino si sblocca a livello 3 vai 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 dobbiamo arare come le come le bestie i nemici hanno preso alfa dobbiamo fare punti aiuta la squadra presto B impossibile punti buona c'è un altro eh, ho usato troppo eh eh eh, adesso l'abbiamo sbloccato eh animazione prima non l'ha fatto bella sta mappa mamma mamma mia uuu, cecchinozzo dai mo ah quasi muore perfetto siamo proprio lenti eh ma dopo che cannonata ah ah not bad L'ho sentito dopo Eccolo A destra E non muore Dai che era messo male Mannaggia Wow Mmm Non so se era l'amica ma è fatta lo stesso Eh sì qua è one shot Non lo pigli lo pigli mi sa Non penso che gli abbia fatto tutti sti colpi alla testa Non riesco a regolarmi con... Oh è qua sopra Mentre tremava tutto Buona questa Eccolo un altro Oh più lasciata No no non riesco a mirare Assolutamente no Non mi rego Ok fratevo stavo dando un'occhiata al menu modifiche e equipaggiamenti Qua è possibile andare a personalizzare le armi Ma non ho nulla Quindi Una sezione armaiolo Sotto canna Volata Ottica Specialità E quant'altro Poi penso tutti i mirini Eeeh Gli accessori Qui specialità I gadget Vabbè Eeeh Torniamo a farci un'altra partita Morirò Tante volte Ci saranno tanti tagli Ma ve le farò vedere Perché sono Realmente un incapace Da dietro Da dietro Da dietro Ma da dove No no uso solo questo Adesso Ma do un fulmine Sono velocissimo Cento passi qua Eeeh ma Smiro Tantissimo Sto cercando di capire Come inclinarsi Forse è solo sugli andoli Ma dov'è E' qua sopra Oh ma mia Ok Bella La doppia E poi arriva un altro da dietro Mi sciocca Vabbè vabbè stiamo prendendo mano Prendete quegli obiettivi Attaccate quelle posizioni Siamo in svantaggio Prendiamo Charlie Ho preso un altro Sì con la granata grande Bello Eh ce n'è un altro qua Eh non ci ho capito un cazzo Oh bello questo Vi un attimo eh Mazza che mira lenta però Mmm GG È lentissimo Se mi arrivano davanti Mi apri in due Ricarico Un altro Per lanciare ste robe Basta Missile crew is pronto al lancio Missile crew is pronto al lancio No no Non ti fermai qui la porta Che cazzo ti ho fatto Sono morto Ho avviato Ho avviato Dove siete Dove siete L'ho visto Ho inclinato da solo Ma che magello però C'è un livello D'audio Imbarazzante No 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 Stordito Non so come Questo ci Arriva da sinistra Bello Per un pelo Aspettiamo che ci cura Aspettiamo che ci cura M'ha visto M'ha visto prima Io non l'avevo visto Ma che botta de culo che ha smirato Sono peggio di me No c'è un altro Invece no Compagno Invece no Era nemico Invece no è il nostro faccio in tempo a ricaricare? posso? un po' pare, no